Dopo mesi di lockdown e di isolamento forzato dovuto alla pandemia da coronavirus, ritorna la voglia di viaggiare e con essa una maggiore consapevolezza per le persone, per l'ambiente e per l'ecosistema. È proprio il grande impegno di Aeroporti di Roma sui temi ambientali e alla base della decisione dell'Organizzazione Mondiale del Turismo che per la prima volta in assoluto ha voluto premiare l'Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino con un riconoscimento ufficiale sulla sostenibilità. Premio consegnato all'amministratore delegato di ADR Marco Troncone nel corso di una cerimonia svolta proprio nello scalo romano alla presenza tra gli altri della sottosegretaria al turismo Lorenza Bonaccorsi e del presidente dell'ENAC Nicola Zaccheo. Un riconoscimento che è un punto di partenza e non un punto d'arrivo e che ha dietro una grande storia di attenzione all'ambiente. Alcune cose molto visibili come le auto elettriche, come i pannelli solari, come le pale eoliche, altre meno visibili come per esempio il ricircolo dell'acqua in un depuratore tutto vostro. Vogliamo fare un panorama di quello che è l'attuale e cosa si svilupperà per il futuro in tema ambientale? Sì, è una tappa, è assolutamente un punto d'arrivo, noi siamo assolutamente a metà del guado, sono prima nel nostro percorso di sviluppo e di miglioramento. È una tappa in un percorso di attenzione alla sostenibilità, ma in realtà si inquadra in un più ampio contesto di attenzione al cliente, attenzione al passeggero, attenzione ai nostri partner commerciali, linee aeree e ovviamente attenzione all'interesse pubblico, al nostro concedente. In questo quadro c'è anche la sostenibilità, è un elemento cardine, centrale nella nostra strategia, nelle nostre attività. Non è solo uno slogan, è un'attività, è un impegno concreto, vuol dire gestione dei rifiuti efficiente e responsabile, vuol dire riciclo della plastica, vuol dire abbattimento dei consumi di acqua potabile, vuol dire abbattimento dei consumi energetici, vuol dire cose che si vedono e cose che sono anche un po' dietro le quinte, ma sono forse quelle le più impattanti. Per parafrasare una pubblicità, un aeroporto non è un'isola, sta in un territorio, sta in un territorio e con quel territorio deve anche relazionarsi. L'attenzione al territorio come la vedete anche in tema di sviluppo ambientale? Per noi è centrale, noi siamo una cosa sola, nel senso che la nostra organizzazione che impiega oltre 3.000 persone ovviamente si avvantaggia della volontà, delle capacità di tante risorse del territorio. L'aeroporto è un motore di sviluppo riconosciuto, si può misurare anche il contributo dato alla nazione ma soprattutto al territorio. L'aeroporto spiega da un contributo economico addirittura di oltre 30 miliardi di euro in termini di PIL, di cui in buona parte viene scaricata chiaramente in loco e impiega in modo diretto o indiretto, on-site, off-site, come si dice, oltre 170.000 persone. Una bella fetta di queste 170.000 persone sono qui. Sono oltre 35.000 le persone che vestono questo badge e di fatto è una popolazione di una media città. Il riconoscimento delle Nazioni Unite premia l'impegno che ADR dedica da sempre alla sostenibilità e che è integrato nel modello di business per creare valore sul piano economico, sociale e ambientale. D'altronde la società rappresenta un importante motore di crescita per il paese con l'aeroporto di Fiumicino che solo nel 2019 ha generato un valore aggiunto per 13,7 miliardi di euro.